La birra della Val d'Orcia come rimedio contro l'osteoporosi, zolfini e cavolo nero da utilizzare per contrastare il diabete, bruchi e insetti da studiare per capire se possono costituire un rimedio contro l'ipertensione. Sono 32 i progetti come questi a cui stanno lavorando i ricercatori delle università toscane in vista dell'esposizione universale che si aprirà a Milano il primo maggio prossimo. I tre assessorati all'agricoltura, alla ricerca e alla salute da tempo infatti lavorano insieme per permettere alla Toscana di presentarsi ad Expo con le carte in regola per fare man bassa di fondi comunitari. Chiapperemo il topo e che il topo per noi vuol dire saremo presenti nella distribuzione delle risorse Horizon, tramite Horizon l'Unione Europea sta facendo su queste tematiche e non solo, non siamo secondi a nessuno. Per ora si tratta di progetti pilota realizzati con 4 milioni e mezzo di euro provenienti da fondi pubblici e dal 5 per mille. Partendo da questi finanziamenti pubblici, agganciando i finanziamenti privati, ripartire dal cibo, ripartire dagli alimenti e portare l'innovazione, quindi partendo dalla tradizione guardare anche quello che può essere il futuro. E il futuro racconta di 17 idee per l'agro food, dalla tracciabilità dei prodotti alla valorizzazione dei sapori locali e antichi, alla nutraceutica, ovvero lo studio delle proprietà curative di certi alimenti. Siamo impegnati su tutta la filiera perché la Toscana abbia una grande posizione importantissima in questa grandissima manifestazione per il nostro paese. E dall'assessore Salvadori è arrivato forte un invito al futuro presidente della regione a non disperdere il patrimonio di lavoro fatto in sinergia dai tre assessorati per l'Expo. Grazie.